amici ed amiche un caro saluto a tutti e bentornati al nostro appuntamento con questa serie dedicata a toy tinker simulator come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche del canale i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete i miei canali social come sempre vi ricordo che nella descrizione del video oltre a trovare il link per seguire i miei canali social trovate un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati giochi multi piattaforma scontati fino al 70 per cento oltre naturalmente a trovare il link per visitare il sito www.ipiani.it alle penici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100 per cento sono adatti anche lo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipiani bio.it ci trovi anche su facebook ed instagram www.ipiani bio.it z. se Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E benvenuti a questo nostro appuntamento con la serie dedicata a Toy Tinker Simulator. Come sempre ringrazio i moderatori, i moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguirmi ai miei canali social, oltre naturalmente il link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70% e il link dell'azienda agricola I Piani Bio, visitate il sito www.ipianibio.it Poi vi ricordo che ogni sabato nel mio canale YouTube uscirà un nuovo episodio della serie Trader Life Simulator e con l'occasione approfitto per salutare e ringraziare gli sviluppatori della DNA Army per avermi concessa la chiave di gioco. Perfetto Allora, andiamo avanti Purtroppo mi sono dimenticato all'inizio di ricollegare il microfono, quindi me ne sono accorto un po' troppo tardi Non vi siete persi nulla di qui Allora, andiamo un po' C'è qualcosa che ho lasciato? Andiamo un po' Sì Gino è il pilotino E gira di qua, e gira di là Perfetto Andiamo avanti Approfitto naturalmente per salutare e ringraziare tutti quanti voi che state iscrivendovi ai miei canali social Naturalmente e ringrazio e saluto Moreno Mister Ale Asso Saluto la zappa assorta Caiman Lorre, la mitica Gaia Kase, insieme naturalmente alla nostra mitica Elisa Maurizio Max, insomma tutti gli amici del canale Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it Non so se si sente prima, comunque abbiamo sbloccato nel gameplay precedente Abbiamo sbloccato l'archivement, quello lì, delle barche, quindi abbiamo aggiustato 10 Barche e giocattolo Allora, manca il sapone Perfetto Approfitto anche ancora una volta per salutare e ringraziare i sviluppatori di Toy Tinker Simulator Per avermi concesso la chi naturalmente Grazie mille Grazie mille Allora, spray rosso 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Oh, ma vai Rosso è questo eh? Spray rosso E perché mi dici che ce n'è sta zera? A questo e infatti vabbè abbondantis abbondandum vai guai ovviamente Aleasso tornerà molto presto in live in questo momento sta allestendo il suo studio quindi vi porto e vi borgo i suoi saluti, vi mando i saluti di mister aie aiea che naturalmente come sempre vi invito a passare nel suo canale twitch ma anche nel suo canale nei vari social che si chiamano Aleasso Aleasso official se non ricordo male diamo un attimo Aleasso Alegracias comunque cercate aie aie scusate ma ma scusate ma arrivate mi chiar trovo a qua allora Qua Andi aritmatici Chats Jazz Uncle G Gino G Gino Ricordiamoci che abbiamo un pezzo in stampa C'è Ce l'abbiamo dove si è la stampante dell'etichetta insomma Approfitto anche per salutare la mitica Chiara Error 404 la nostra Queen Chiara Chiara Internazionale insieme alla nostra mitica Guerriera Underscore GG G Ah c'è il pilotino Cino Cino Pilotino Vecchio spot degli anni 90 Chats Cino Giuseppe Chats Chats no no E' i Jets, i Jets! Allora, ora abbiamo questa specie di... oh! 1020 punti di esperienza, ottimo! Scusate i colpi di tosse, ma qua... Sono o non sono il Capitano C... Il resto è nella vasca d'ultrasuolo... Vediamo cosa ne viene fuori... Questo è sicuro che è plastica... Allora, nel frattempo... andiamo qua... Andiamo al banco della stampante... Qua ho fatto una sterzata improvvisa... Questa è la moto di Cayman Loree... Ah, a proposito, mi sono dimenticato di salutare anche l'amico MachoKing82... Oltre naturalmente a NeoFernPass... Oliari Enrico... Marco Svizzietto... E tutti voi naturalmente... Che mi tenete compagnia... E che vi faccio anche compagnia... E soprattutto a voi big del web... E tuzze tuzze... Questa è la musica per fare... E tuzze tuzze... Oh. Ci abbiamo poliettavo per il lavaggio ragazzuoli altro che il lavandito. Ce l'abbiamo solo noi, tazio gigino. Vai tazio gigino, e ti aggiusta il giocattolino. Che fine hanno fatto i pezzi? Ah, stanno quasi, sì, giusto. Allora, prima il passariello, poi la moscella, e poi l'ingastration. Oh, perfetto. Allora... Sì, la vita è tutta un blues, è tutta l'amor. Stira. Lava. Stira. Stiene pan. Stendi pan. Lava. Stira. C'è questo. Acquista una spugna, è un detersivo, un detergente per un solo prodotto. Ma certo che stanno proprio ridotti proprio male questi giocattolini, eh. Ah, mancano i pezzi. I gigi. Ebbè, giustamente. Quelli sono stati appena lavati. Lava. Stira. Stira. Stiene pan. Stendi pan. Lava. Stira. Stiene pan. Stira. 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 Stira Sì, sì, sì. Ehi, domani, ahhh, troppo sensibile, troppo sensibile questo, questo sorriso, questo mouse, il top house, mi dissocio. Aus, aus, fringual, aus. Sì, sì. Specialist S1, materiali mancanti, spray rosa e prendiamo anche il blu. Ok, jolly blu e pantera rosa, spray blu. E rosa, che rosa non è indovina accuse. Rosa, rosa. Sì. 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 Ciao. Come stai? Sì. 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 Ok, adesso si. E allora si. Questo dipinge e c'è sempre il muro tutto bello bianco. Da notare che c'è un bel panorama. Se guardate nella parte sinistra dove c'è la parte bassa qui si è ingrandite. Noterete che c'è in un pontile, un pontiche. Che cos'è una casa al lago o sul lago? O è una casa sull'oceano, sul mare? Fatemelo sapere. Lasciando un bel commento. A presto. Un po' di tutto, un po' di tutto. L'è un po' di tutto. Alla prossima. 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 Scusate. Questo è tutto legno. Alla prossima. 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 Scegli i prodotti. I piani bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it Ci trovi anche su facebook ed instagram. qualcuno sta bleffando ragazzi come è andata la live poi gli amici che guardano questo video su youtube loro conoscono quando dico campanellina loro sanno di che cosa si tratta a proposito domani in giornata esce un nuovo episodio di Trader Life Simulator 2 nel mio canale youtube che se vi va naturalmente passatela a guardare e se vi va magari iscrivetevi anche al canale caro Giglio ti nomino sempre e comunque c'ho sempre un pensiero per te però ovviamente per tutto il mitico staff della mitica azienda agricola i piani bio infatti da qualche parte qua in alto ci dovrebbe essere il logo i piani bio che è una roba buona che è una roba fresca e che è una roba genuina passate da zio Giglio mi raccomando e fate i bravi e fate i bravi stasera la serata è un po' più jazz questa è la musica del giochino qua quell'altra è un po' più martellante ecco devo prenderci l'abitudine con i fringelaus ehi zio Gigino qua ripara tutto ora prendiamo pure qualche altro prodotto un po' più complicato andiamo sul professionale andiamo sul livello maestro questa è la musica per far molleggiare un po' la capucella anzi la cabeza come dicono gli spagnoli la cabeza grazie grazie per i bitterosi grazie per il caffè taus grazie molto presidente grazie grazie ho fatto gli onori di casa allora vediamo un po' vediamo vediamo allora Gaia Gippo ah è importante fare gli onori di casa ragazzi allora vediamo un po' chi c'è a chi non ho fatto lo shootout ah i piani non l'ho fatto prima anzi visto che ci troviamo facciamo così gli facciamo uno shootout di presentazione così per gli amici di twitch mi raccomando andatelo a seguire e amici di youtube fate la stessa cosa iscrivetevi a twitch naturalmente Giulio ma tu hai un canale youtube per caso? anche tuo personale? ah allora non ti preoccupare comunque ogni tanto passa nel mio canale il sabato vedi che sistematicamente se ti fischiano le orricchie durante la settimana non ti impressionare sono io che mentre registro poi eeeh non sto dicendo cose non buone su di te eh ahahah quindi non ti preoccupare sono io che che ogni tanto col pensiero di ti chiamaci GILIO GILIO dove sei? e quello GILIO sta alle pendici del mondo di cucco voglio eh perché vi dico una cosa se non comprate dai piani che sta alle pendici del monte cucco voi non cuccate più eh wow questo è uno spot interessante chi ha cuccato i piani bio e se non se non acquistate i piani bio poi siamo tutto quanto a cuccato andiamo a livello maestro ragazzi ora facciamo il livello maestro allora vediamo un po' a GILIO stasera gli regaliamo un bel drone quadricottero sono stato a Napoli una meseta fa ah si non ti preoccupare GILIO vai tranquillo non ti preoccupare intanto noi tutto sommato ci possiamo sentire tranquillamente anche al di fuori di Twitch oppala così come con Zap insomma con Moreno e con altri amici che ho l'onore e il piacere seppur di conoscervi solo diciamo virtualmente però sappiate che siete veramente persone fantastiche e non lo dico per essere ruffiano ma lo dico perché lo sento veramente chi mi conosce sa che non non sono il tipo da diciamo così dai complimenti facci oh ma che che ti affacca lascia no ah mi sono scordato quello si si oh è arrivato GILIO si è emozionato già qui mi sono scordato aspettate panico ah buono una miseria oh perché qua whats whats whatsapp ah ecco eh l'ho detto questo è il livello maestro quindi si vede che non sono maestro allora questo deve andare nella sabbiatrice in sasso in sasso ecco qua ok GILIO buon rientro se sei in viaggio naturalmente se ti viene se ti gara la palpebra fermati quindi fai una bella carica con il caffè patacca che è il caffè che spacca e poi vai vai con lissio buonanotte maurissimo 60 benvenuto nel canale grazie naturalmente di esserti accodato a questo pazzo a questa pazza coda del nostro amico la zappa storta oh grazie grazie benvenuto in questo pazzo canale welcome thank you thank you thank you un bel applauso vai thank you andiamo avanti ecco qua allora allora spesso abbiamo visto come si deve fare qua quindi questo è tutto metallo un quadricottero fatto con questo mette pure il motore brushless andrà alla sabbiatrice la questa la ok c'è questa utilizza la la sabbiatrice la sabbia per pulire le aste del drone ma i motori sono i grazie zappa grazie ancora per essere passato thank you allora rifacciamo un altro shootout al nostro gran maestro thank you so much caro grazie ancora per quello che stai facendo per questo piccolo canalo cozzo qua piccolo 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 buone nuite merci beaucoup thank you my friend da grazie a te ancora per il ride ti auguro una buona maina pupilla e vediamo un pochettino se riesco a fare un saltino domani vediamo un pochettino che ultimamente sto stravolgendo un po la programmazione infatti nell'ultimo periodo nell'ultimo paio di settima settimana sto un attimino sto posticipando nel pomeriggio la sera qua ok dai sap al thank you so much buona maina pupilla e buon di tutto eh ragazzi quello è il segreto di zio gegino che con una passata guardate qua torna tutto come nuovo le je soffi rient va più and the twa so curioso di vederlo sto drone dopo ci andiamo a fare un giro con i droni che ho già riparato restaurato e che fanno parte della collezione del museo ebbene si anche se oggi ci non c'è il museo di giocattolino oggi ci no giocattolino obbligato 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 allora dove sta qua aspetta aspetta ma qua mi pare una poca strana la scheda questa qua forse forse ce l'abbiamo fatta a 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 cliente allora collezione si no aspetta era collezione si il trone che sembra più un elicottero a 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 vediamo se siamo bravi a passare agli angoli stretti qua oh gira 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 il trottolino c'è un po' di bolo acrobatico oppala chissà che che drone è il padrone cbb vai at terra am ovvio vediamo vediamo cos'altro che abbiamo questi sono gli obiettivi da da sbloccare riparati Noi gli ultimi che abbiamo sbloccato erano quelle delle navi, ok, allora ripeto, ah andiamo al museo, ah questa non l'ho ancora, va al museo, giustamente questa non l'ho comprata mi sa, no pulisce, ah, qui, ah mi sa che non ho messo ancora niente qua, qui, come si fa, ah ecco, ok, allora questi sono tutti i giochini che sono stati restaurati all'inizio che fanno parte della collezione, altri invece fanno parte, beh questo è molto poco, l'abbiamo riempito, altri invece fanno parte, sono quelli che vengono consegnati ai clienti, andiamo nell'altro museo, adesso che l'altro è quello è molto più fornito, allora museo, il primo, no, questo, 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 è il museo, questo è più rifornito, eh, questo c'è tutta un'altra caos, qua abbiamo anche la 127 Sport, in basso qua, abbiamo la locomotiva di Galaxy Express 999, sì, 999, poi vediamo un po', ah, queste poi abbiamo la giostrina, questa è stata bella complicata da smontare e rimontare la giostrina, perché andava smembrata totalmente, quindi erano diverse dozzine di pezzi, anzi più di una ventina, poi cos'altro c'è? Ah, sì, poi qua abbiamo il tipo in ratio, abbiamo anche il nostro ciclista qua, il nostro Brixia, che è un altro amico del canale che vi invito a seguire, un altro bravissimo amico streamer, ok, ritorniamo un attimo, ritorniamo un attimo a fare una cosa, grazie Gippo, grazie di essere passato a salutarmi, ti auguro, una buona maina pupille, naturalmente, e torna, grazie Gippo, grazie ancora di essere passato, ti auguro una buona maina pupille, e ci si becca poi, anywhere, thank you so much, shh, allora noi andiamo un attimino, vediamo un attimino qua, ritorniamo a noi, la varcatella, ah ecco, questa è fatta la ruggine, questa è fatta l'ossido, e questo deve, eh, questa mese che è fatta di metallo, eh, c'ho questa vaga impressione, eh, questo dettaglio qua, abbiamo smontato tutto, eh sì ragazzi, è tutto metallo, infatti alcune parti vanno nella e la citatrice vibrante, vibration, vanition, vibration, vibration, attrazione, 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 vernici in polvere Mettiamo a cuocere le pizze nel frattempo! Ah, devono dare qualcosa in stampa! Ah, la nave, si! La Varchetella! Ok! Mandiamo le stampa e vediamo quello che ne viene fuori, anzi quello che ne esce! Ah, la stella, la stella di mare! Non, 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 non! Non, 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 non! Mmm, mesdames e messieurs! Nous avons presque terminé notre video! Ci facciamo un altro giochino e poi facciamo QRT! Allora, prendiamo Artigiano! Ah, prendiamo la, la casetta! La casetta di Petit Chaperon Rouge! A ver, Capuchetto Grusso in Franchise! Oh! Eh! Questo poi mi mandava al malicone! Allora, questa... Questa è la stampante 3D! Ok, quindi manca sicuramente qualche pezzo! Questa è la stampante 3D! Questa è la stampante 3D! Questa è la stampante 3D! Questo volevo togliervi! Mancano due pezzi, quindi... Ah, ecco! Eh! Ok! Le finestre, sì, sì! The window! Ah! Shhh! Eh! Buon sensibile! Bah! Eh! Chiamma! Eh! Scusate! Se mi sono espresso in lingua napoletana, però ragazzi, quando ci vuole, ci vuole! Eh! Eh! Anche questo mi sa che è fatto in metallo! Vediamo! No! No! Mi sa che questa è plastica! Plastica plastiquina! Eh! Ok! Eccolo qua! ! Eh! Eh! Tommi! 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 sembra più una stampante a getto di piastro che una stampante 3D 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 4D 4D 5D 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 6D 6D 5D 7D 8D 8D 9D 9D 10D 10D poi riferisco così magari farvi vedere quest'ultimo pezzettino della Line Levens OK ecco qua ecco qua ok 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 e vai vai vendiamo il risciopetto laus yeah ottimo allora ragazzi io approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a salutarmi ringrazio la zappa storta per il ride ringrazio Maurissimo 60 per essersi iscritto al canale ringrazio Gippo ringrazio i piani gaming ringrazio anche che vediamo un po' chi mi sono ascoltato di salutare saluto e ringrazio ovviamente i bot di twitch che sono sempre presenti allora ringrazio la zappa storta per il caffettuzzo che ci ha offerto i sentimenti vediamo un po' che altro devo salutare i piani gaming luciano ringrazio vediamo se mi sono dimenticato di qualcuno vi chiedo scusa ehm questo episodio termina qui naturalmente per gli amici di youtube come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per acquistare il vero cibo biologico italiano direttamente dal sito di piani bio poi vi ricordo che trovate il link dei miei canali social oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati per voi amici che siete in diretta vi auguro una buona notte per voi amici che invece state guardando questo video in replica su twitch ma anche su youtube vi auguro una buona continuazione e quindi come dico sempre ringrazio i moderatori e moderatrici e tutti quanti voi e quindi grazie mille a tutti thank you so much ma state rindo a cuore eeeh state pure a cuore grazie thank you so much alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani una genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram www.ipianibio.it 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 Grazie a tutti.